ciao piccoli grandi artisti ciao bentornati guardate un po cosa vi ha preparato oggi Ted guardate soffia 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 si muove avete visto sapete come è venuta questa idea a Ted come ti è venuta con una storia esatto l'ispirazione gli è venuta ascoltando la storia di uno dei nostri artisti preferiti che si chiama Alexander Kolder volete ascoltare anche voi la sua storia dai dai ma prima Ted ha un indovinello per voi quali sono i colori preferiti da quest'artista sono quattro riuscite a trovarli dentro la storia siete pronti per ascoltare la storia e allora occhi aperti per guardare orecchie attente per ascoltare la mente pronta per una bella galoppata ed ecco che la storia è cominciata Alexander possiede un filo di ferro e dovunque vada lo porta con sé lo piega lo arrotola lo curva e lo schiaccia lo stira lo taglia e lo appiattisce con quel filo può realizzare tutto ciò che gli viene in mente come un animale inesistente o il buffo uccello che ficca il naso dappertutto o anche solo gli animali che più ama come i cinque cagnolini dal pelo ispido quando vuole fare colpo alexandre pesca un pesce gigantesco o afferra a mani nude un pericoloso serpente e quando corre a perdifiato sembra avere le ali alexander ha anche un'autentica passione per i mostri ecco un filosauro con i tentacoli di ferro aiuto ho il terribile filo drillo a due teste attento alexander sta per morderti ma alla vista dell'aggressivo moscone se la dà a gambe ecco infatti un bellissimo giardino tra il ronzio degli insetti e il cinguettio degli uccellini o una città piena di vita dove i grattacieli sembrano innalzarsi fino a toccare la luna ma qualche volta alexander si sente un po solo così col suo filo si costruisce un amico un amico saggio che ha una risposta a tutte le sue domande e un capo sempre pronto a dare ordini proprio all'immagine di se stesso e giosephine ah giosephine con lei potrebbe ballare e ballare ballare fino a notte fonda alexander però vuole creare cose vive capace di muoversi da sole come fare come creare qualcosa in grado di muoversi da sé di trasformarsi continuamente al soffio del vento si mette in cerca dei colori più belli appende i colori al filo e funziona ti chiamerò mobile dice e non si è mai sentito più felice allora vi è piaciuta la storia siete riusciti a indovinare quali erano i quattro colori preferiti dal nostro artista bravissimi esatto erano proprio il rosso il giallo il blu e il nero e se vi sono piaciute le sue opere volete provare a giocare con noi ted nel prossimo video ci insegnerà dei giochi bellissimi per giocare con le opere di colder adesso vi ho preparato per salutarvi un po' di immagini con le opere del nostro artista buon divertimento e ci vediamo nel prossimo video ciao saluta ted ciao bimbi ci vediamo presto ciao ciao ciao